Se volete questo bellissimo adesivo da vita da un ciclista Contattate... nooo Contattateci su... no Contattateci su Instagram Eri nero Contattateci su Instagram Oh dio quanto sei sexy Ciao a tutti Adesso abbiamo appena fatto il video del K E provarlo Guarda qua Eh guardate qua dove va il culo Wow Unboxing Unboxing Adesso vediamo che c'è arrivato Tan 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 Quindi ma... che cazzo c'hai lì? Eh? Ah ma è questo? È che è arrivato un po' troppo sangue La tecnologia Puttana Belli questi Artistici Allora Ma ci vediamo con unboxing Ma ci vediamo Sì Ora avremo bisogno di un toglierino Tac 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 Facciamo la testa Ma che roba eh? Procediamo con l'unboxing? Bello! Oh! Cosa interessantissima Adesivi KTM Se lo volete scriveteci pure su Instagram Puttacom Sì è un euro Le rivendo Ma fa veramente buono Abbiamo un buon imballaggio di mattone Questi adesivi li mettiamo qua Pronti per essere venduti Esatto Adesso li attacco sui paramani O meglio O meglio Sono troppo un parafago dietro Fa brutto Fa brutto Vedete che li mettiamo anche Gli attivi in vita Dal moticiclista Questo lo diamo Questo lo diamo a Tommy Così Vedete che farsi un po' male Non tagliarti le vere Togliarti le vere Passo cazzone E va bene Tiriamo solo fuori Il pezzo forte Ecco Adesso si vedi che è da 22 Così si piega presto Anzi dammi la volta a ieri si è tagliato no bravo bocchiamo buono buono taglio leggero è raffinato come la carne taglio leggero si cerchiamo di non distruggere come cazzo si chiama il prodotto ma quasi qui ce l'hanno inviato vero? si allora KTM con l'uscita dei nuovi XC 2018 ha deciso di farmi un regalino io sono pilota ufficiale oh cazzo no non è posto posso andarmi l'unboxing è finito ora procediamo al montaggio questo è il prodotto adesso facciamo una ripresa artistica manubrio montato come si vede qua Rick è già salutato salutiamo anche Teo bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti